Come avrete ben capito, la mia opinione dei politici è molto bassa, ma quella dei giudici non è migliore, perché anche i giudici sono stati corrotti dalla partitocrazia, lo dimostra il semplice fatto che molti di loro ostentano la tessera di partito. Un giudice che ha venduto la propria imparzialità ai partiti è un giudice che prima di processare gli altri dovrebbe essere processato, lui è cacciato in galera. Lo so che a dire queste cose si possono avere dei dispiaceri, ma io dei dispiaceri in vita mia ne ho avuti tanti che uno più o uno meno, non mi fa nessunissimo effetto. Grazie, buonasera.